Siamo alla quarta giornata della Champions League qui al Derby Sports e la prima partita a concludersi è Maramao Caffè-Krajovac che vede emergere ancora una volta i Krajovac vincitori con una bella rimonta in questa partita emerge il nome di Gallitognotta Dario che nonostante nessun gol segnato fa emergere un buon gioco e alza il livello della sua squadra che arriva addirittura a vincere quindi come si sente ad essere migliore in campo? Beh, una grande soddisfazione, comunque siamo una squadra oggi toccato a me, domani toccherà un altro l'importante è essere un gruppo metodo, quello è l'importante Una Krajovac che piace perché sembra proprio essere un bel gruppo che ha portato a casa in queste tre partite due vittorie e una sconfitta quindi ancora in perfetto ruolino di marcia Siamo ancora in corso per la Champions, ce la stiamo mettendo tutta vediamo giornata per giornata, settimana per settimana vediamo di portare a casa qualche bel risultato e qualche piccola soddisfazione Grazie mille Prego